Sì, grazie Presidente. Questo emendamento riguarda due aspetti. Uno che so che è molto caro anche al collega Fassina, sul quale aveva presentato un emendamento simile, ed è aggiungere al comma 3 il testo La consulta del paesaggio urbano può essere articolato in organismi consultivi municipali. Poi andiamo a trattare all'articolo 4,1. Qui si è generata una situazione che ci hanno fatto una critica, ma una critica detto francamente non pertinente, in quanto al comma 1 lettera B è indicato pubblicizzare la presenza di alberi monumentali di notevole interesse pubblico e di pregio. Allora, aggiungiamo qui a di notevole interesse pubblico e di pregio la parola alberi, per declinare in maniera chiara e inequivocabile che sono tre tipologie di alberi diversi. Poi io interverrò sull'articolo 28 su questo aspetto e lo declinerò in maniera ancora più precisa. Grazie Presidente.